Già chiuso la cassa di Lanciano, giorni prevista la chiusura anche di quello di Roccamontepiano. A ruota potrebbe accadere la stessa cosa per i tanti centri d'accoglienza in Abruzzo, dove decine di migranti hanno trovato il modo di formarsi e trovare un lavoro e in tanti casi vedi Roccamontepiano mettersi a disposizione anche dell'amministrazione comunale per svolgere lavori socialmente utili come quello di mantenere il decoro urbano. Sono gli effetti del decreto sicurezza fortemente voluto dal vicepremier Salvini che di fatto mette in rischio a livello nazionale almeno 20.000 posti di lavoro, 500 in Abruzzo, di cui 150 solo nella provincia di Chieti. Sono posti di lavoro che il governo aveva promesso alle nuove generazioni e che dall'oggi al domani vengono completamente annullati. Che prospettiva abbiamo noi? Dobbiamo dire prima gli italiani, ok, allora parliamo di noi operatori, se non vogliamo fare soltanto un discorso di accoglienza, di integrazione. Perché si vuole tutto questo? Questo ancora non lo sappiamo, fa parte di un disegno più grande di noi e siamo qui anche per chiedere un incontro per sapere che fine faranno sia questi ragazzi sia noi, professionisti dell'accoglienza, gente laureata, ripeto, gente sotto i 36 anni che vuole sapere insomma cosa è il futuro in servo per loro. Senza contare l'aspetto legato al destino dei tanti migranti assistiti che a seguito della chiusura di queste importanti strutture rischiano di tornare nella condizione di clandestini. Allora Hassan, tu ti sei trovato bene nel centro di accoglienza di Roccamonte Piano, hai svolto tante attività, addirittura sei un tirocinante, è così? Sì, 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 sono un tirocinante dell'accoglienza di Roccamonte Piano e beh, non lo so, mi trovi bene per me ma per l'altro non va bene per me. I ragazzi nei centri di accoglienza sicuramente diventeranno clandestini andando a rimpolpare dei file nel migliore dei casi del lavoro nero, nel peggiore della criminalità organizzata. Vogliamo tutto questo, vogliamo che bivaccano sotto i nostri portoni. Questa mattina una rappresentanza dell'Unione Sindacale di Base, sezione lavoro privato, dalla provincia di Chieta, ha incontrato il capo di gabinetto del prefetto per manifestare la sua preoccupazione anche alla luce di una raffica di controlli negli ultimi mesi portati avanti anche in modo strumentalmente capillare. Vogliamo appunto l'apertura anche di un tavolo con la regione, con l'assessore per il lavoro Fioretti perché è impensabile che in Italia al 2019 si portino avanti i discorsi e vengano attuati decreti che rischiano di far saltare il posto di lavoro a 20.000 giovani in tutto il paese.